La Giordania non venga lasciata sola nel suo impegno di accogliere profughi e rifugiati. Lo ha ripetito Papa Francesco al fiume Giordano, evocando l'umiltà di Gesù che si è lasciato battezzare e si è sempre chinato a guarire le ferite degli altri. Al centro dell'attenzione del Papa ci sono stati i profughi provenienti dalle ferite aperte, dai conflitti in Siria e in Medio Oriente. Rinnovo il mio più accurato appello per la pace in Siria, cessino le violenze, venga rispettato il diritto umanitario, garantendo la necessaria assistenza alla popolazione sofferente. Si abbandoni da parte di tutti la pretesa di lasciare alle armi la soluzione dei problemi, si ritorni alla via del negoziato. La soluzione, infatti, può venire unicamente dal dialogo e dalla moderazione, dalla compassione per chi soffre, dalla ricerca di una soluzione politica e dal senso di responsabilità verso i fratelli. Dio, ha detto il Papa, converta i violenti e coloro che hanno progetti di guerra, rafforzi i cuori e le menti degli operatori di pace, li ricompensi con ogni benedizione.